Il sacrificio di Isacco è molto rappresentato nella storia dell'arte perché era utile per la catechesi per immagini. Presento quello di Brunelleschi e quello di Caravaggio, uno a confine tra il periodo gotico e rinascimento e l'altro tra il rinascimento e l'epoca barocca. Brunelleschi partecipa al concorso per la realizzazione della seconda porta del Battistero di Firenze. L'opera aveva dei limiti dimensionali e di forma dati dal bando di concorso. Ed è quella che si può definire la prima opera rinascimentale. Questa è l'altra superstite dei concorrenti fatta da Ghiberti. Brunelleschi presenta un'opera perfettamente simmetrica e divisa in due scene. Sotto c'è l'arrivo di Abramo e di Isacco con una rappresentazione di Isacco, che è quella d'angolo nel quadrato, nel rettangolo, che si ispira a una scultura romana antica, lo spinario. Colui che si toglie la spina come, attenzione ai pericoli della vita. L'opera è divisa con un asse simmetrico e nella parte superiore è riportata la scena dell'angelo che ferma la mano di Abramo. Angelo e Ariete, che nel passo biblico poi verrà sacrificato al po' di Isacco, sono posizionati nella stessa area, in modo da indicare che l'intervento divino è quello che salva. Per la teologia cristiana, l'arriete è un'altra rappresentazione del Cristo, che verrà poi chiamato agnello di Dio. Ma passiamo al Caravaggio. Caravaggio ha tutto un altro tipo di rapporto con l'arte, preferisce rappresentare dal vero, e quelli che noi vediamo tra personaggi sono dei ritratti di persone che poi ritornano nell'arte e nei quadri dell'artista. Qui la scena è ambientata nella campagna romana ed ha un'indicazione grafica ben precisa. Le braccia di Abramo e quelle dell'angelo sono rivolte in maniera tale da concentrare il nodo focale della scena proprio su Isacco, sulla pietra, questo altare rudimentale, e sulla rite, che lì quasi che guarda e si propende per essere sacrificato volontariamente. Grazie.